Non mi sento molto bene, non mi taglierò le vene Mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte Sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme Ecco un podcast in azione, che prezzo cambia la mia sorte Cerbero, po 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 podcast Cerbero, po 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 podcast Marramichi risce i debè Lei burla rana 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 Cerbero, po 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 podcast L'utubi vuole estinguersi Tre teste per un cerbero Cerbero Po 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 podcast Troppi goblin in questo mondo Non sarò, non sarò un closure Né tanto me non deve Perché ogni giorno guardo Cerbero Cerbero Po 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 podcast Cerbero Po 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 podcast Marramichi risce i debè Lei burla rana 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 Cerbero Po 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 podcast A maestro del rimò Ma che stai a fa? Ricordate che i squali Stani arrivà Hello Closhard E benvenuti in questa nuova trasmissione Finalmente il cerbero Oddio Un giorno senza il cerbero L'ho vissuto da Dio No, non noi Parlavo dello spettatore Mi stavo immedesimando ai nostri spettatori Cioè la vostra giornata senza il cerbero Che senso ha? Mi chiedo Forse stai proiettando Può essere Perché non mi sento così Comunque Oggi siamo qui perché doveva esserci la presenza dei The Pills Sì però Ho preferito rimandare a domenica Ma no io non li voglio In modo da averli tutti Pensavo che li abbiamo mandati via perché sono degli emeriti No no domenica al completo Tutti e quattro Quindi prossima settimana Cioè questa Giorno di riposo Sampato Sto pensando già al giorno di riposo Hai capito o no? Prossima settimana cioè questa è bellissimo Eh che non ci sto capendo un cazzo Che giorno è oggi? È lunedì È lunedì È purtroppo Ma no se lunedì sarà questa Santo cielo chiama un taxi Verranno di persona no? Sì Ok quindi domenica alle 15 Alle ore 15 Questa sera Questa sera Confronto infernale Hell in the cage Mamma mia stasera un delirio Stasera un delirio Federico Lo Buono versus Luca Donadel Il delirio più totale La Faita avrà una conclusione dove è iniziata Posso dirvi che ho hype sincero? No sono veramente interessato perché comunque Secondo me sarà innanzitutto una buona occasione per Federico Per dimostrare che comunque è pronto ad accettare le critiche E contrastare diciamo i primi dissidi Noi con Federico ci abbiamo passato una serata Modificata? Una serata l'altro ieri Sabato sera Lo vogliamo raccontare Siamo stati con lui a San Lorenzo Abbiamo sfiorato tre rissens Ma non per lui Lui non c'entrava niente I servizi segreti Mandati da Donadel I sigari di Putin Stavano a partire tre scazzottate diverse Nella stessa sera Non c'entrava niente lui Però si è un po' scandalizzato Con che gente esco Si sarà chiesto a quel punto Mi sa che avete chiamato un taxi No Simo Quante volte l'ho detto Ieri sera ti chiamano un taxi Ma tipo troppo È partito proprio Per favore chiamano un taxi Invece la certa che ho fatto Per favore chiama Uber Lui l'ha chiamato davvero Esatto Siamo tornati a casa Uber B Mamma mia Senti Simone Che cosa ci presenti oggi? Oggi vi presento un tizio Che appena l'ho visto Ho detto questo qua È possibilmente In maniera totalmente affettuosa Il nuovo Rosario Ligato Greve Ma questa è una diffamazione In piena regola Ho specificato In maniera totalmente affettuosa A chi gli voglio bene Però non si sa Diffamazione i danni di chi? Dei due? No infatti Si annulla da sola Maestro del rimorchio? Ancora? Maestro del rimorchio Ancora Ma questa è una fusione Tra due entità Già noi conosciute Per dorati Ma che cos'è? Il boss finale oggi Madonna mia Io Non farò il vostro errore Di farmi denunciare Eh esatto Tra l'altro Sembra tipo Un maestro di Harry Potter No? Il maestro del rimorchio Tipo un piton Insegna Hogwarts Oggi prenderò Una querela col sorriso No 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 Sì però questa volta Dai vieni te E io mi dissocio Diciamo il nome e cognome Di Flavio Esatto No 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 ve lo mando io in privato Porco Dinci Allora Io l'ho visto in live da Livio E già sono stato un quarto d'ora in quella live E già me l'ho fatto un'idea Il suo profilo Instagram Il suo canale YouTube Si chiamano Approcciala.it Approcciala.it Ma questa è una cosa Che era di sbella Comunque S'inquaratura Devo dire S'inquaratura Certificazione Fossi figo, frequenterei il locale giusto, fossi figo, sarei il principe dell'adduttore, sarei il re dell'addominale, sarei il re della palestra, ammirerebbero i miei capelli, metrecine, sì, sono finti, ma comunque sono molto belli, quelli veri sono volati via col vento, e anche la foto sul documento non mi rassomiglia più. E poi c'è un pezzo tipo alla Queen, una certa, no? Top virtuosi comunque, sono dei mostri incredibili, ma quando cazzo viene Elio? Porca puttana, Elio è ufficialmente invitato. Allora scrivete su Instagram, allora scrivete su Instagram, allora scrivete su Instagram a Elio e le storie tese siete ufficialmente invitati al Cerbero Podcast, ma magari sì. Sarebbe bellissimo, ma anche solo Elio, Faso e Cesareo. Comunque, manca solo uno dei tre. Comunque, quante volte nella nostra vita vediamo una ragazza per strada di giorno, e diciamo minchia questa qua me la voglio proprio scopare, cioè se avessi tutte le carte in regola per potermela scopare me la scoperei oggi stesso. Fossi figo appunto. Ma no, in realtà, anche se non sei figo, ormai esistono dei coach come questo qua di approcciarla.it che ti insegneranno ad approcciarla.it. Ottimo. Però lui è specializzato, e questa è una cosa molto singolare che lo differenzia dagli altri, gli altri fanfaroni. Mi dissocio personalmente. Ma chiunque essi siano, lui no, perché lui è specializzato nel rimorchio, nell'approccio di giorno. Ah, quindi non di notte, perché di notte poi diventa problematica la cosa. Di notte se ne occupano altri. Ma cambia tutto. Cambia tutto di notte. Di notte se ne occupa Batman. Altre persone. Questo è il suo sito, videocorso. Dall'approccio al senso. Ma si spiega pure come infilarlo. È un sito un po' strano, perché pure il logo sta... L'approccio, ho capito un'altra cosa. Il logo sta qua, tutto spostato... Ma che è dietro il Duomo? Spostato a destra. Ma è il Duomo quello dietro? Sì, questa è la galleria, quella che sta al Duomo. Sì, sì. Ma che cazzo è? Minchia. Beh, per chi vuole essere un Batman, il giorno mi alleno, la sera stupro. No! Ma che l'ha detto questa cosa? No, te l'ho letto in chat. No, non è vero. Era una battuta. No, ricordiamo a tutti i nostri telespettatori che le donne... Non si stuprano. Non si stuprano. Era tutto per dire questo. Esatto. È comunque importante. Oh, Matteone, grazie. Grazie Matteo. 17 mesi di Matteo HS. Incredibile. 17 mesi di HS. Samartop. Secondo voi un videocorso del genere quanto può costare? Ma io direi un paio di Monster. Quindi 3 euro. Più o meno, sì. Io direi che costa la fiducia. Già che te do fiducia, guardati. Allora, questo videocorso, lo ha detto nella live di Livio, vi costerà 1.400 euro. È già a far ridere così. No, perché... E quando io gli ho chiesto, ma questi 1.400, come li hai quantificati? Cioè, cos'è che vale 1.400 euro? E lui fa, ma guarda, appena l'ho creato lo facevo pagare 600, poi 800 e ora 1.400. Quindi arriveremo a 70.000, più o meno. Un po' come cazzo gli pare. Io apprezzo questa cosa. È un davvero spirito imprenditoriale. Il spirito imprenditoriale dovrebbe avere una logica alla base, magari. Ma non è vero. In base a... Fiamo tutta la cazzo di cane, diciamo. Cioè, pure il sub da 5 e il sub da 25. Vabbè, quello da 25 ha qualcosina in più, forse. Ma tanto noi che cazzo ne sappiamo? Perché noi, cioè, non è che siamo sub di nessuno. Grazie, Renzo! Siamo sub di molti canali, ma tutte regalate praticamente. Grazie, Renzo, hai regalato i sub per l'appunto. Grazie mille. Ogni tanto faccio qualche sub. Con la Paypal di Flame. Greve. Soprattutto a streamer donne. Guarda, è il 10% gratis. Ma come? Minchia. Ma guardiamolo subito. Beh. Ecco. Ti rilegisci strano, magari. Versione prova. Non mananto ci sono i video su YouTube, quindi è inutile. Ma bella sti cazzi. Guarda, come approcciare una ragazza di fretta. Fretta. Di fretta e furia. Ma già sta postura goblinoide. No, no, no. Vabbè, è una definizione mia, la posso dare. La postura... Audio, audio. Di fretta, lì manchi di intelligenza sociale, quindi se ti dice che di fretta capisci dove sta andando e vai con lei. Ma come vai con lei? Ma come vai con lei? Cristo santo. Ma sei una sconosciuta? Sì, sì. Ma come vai? Se una ti dice che va di fretta, o va di fretta o te se vuole le va a dar cazzo. In entrambi i casi ti devi levare dal cazzo. 1.400 euro? 1.400! Vai con lei! Ma questa è una cosa gravissima. Guarda, sto andando al comorat, vengo con te. E nella sua testa, della ragazza, in quel momento riecheggia. Per favore, arriva taxi! No, per favore, chiamata la polizia. No, per favore, chiamata un taxi. Secondo lui, la ragazza pensa che è bello. Perché un gente chiamata un taxi? La ragazza, secondo lui, pensa che è bello. È un accompagnatore. Sì, sicuramente. Un ragazzo così affascinante viene con me, dove sto andando? Il falso vincolo temporale. Quindi ti dice che è di fretta andando e vai con lei, usando il falso vincolo temporale. Quindi ti dice che è di fretta e dici, da che parte stai andando? Sto andando di là. Ma sono cazzi suoi! E dici, cammino con te giusto un minuto, che poi devo tornare indietro. Io stavo andando ad incontrare un mio amico in Piazza Duomo. Quindi rendilo specifico. Le chiedi da che parte sta andando. E poi dici, ok, cammino con te giusto un minuto. Questa parte è standard. Ma cos'è? Ma un venditore del folletto, cioè. Ma pausa un attimo. No, ma a me sembra, tipo, quelli che te vogliono dare, che ne so, i coupon dei libri, delle rotture di coglioni, no? Quanti libri leggi al mese? Fatti i cazzi tuoi! Vuoi aiutare i bambini in Africa? No! Sì, sì, vabbè, vabbè. Cioè, capito? Che si accolano voracci. Mi dispiace pure perché sono lavoratori. Però io, per non dir di no a queste persone, faccio le peggio strade, cioè attraverso, allungo dei sette chilometri. È la decenza che te le impone, perché non ti va di... Non mi va perché sono lavoratori poracci, però... Cioè, in posto sta a perdere tempo, capito? Poi te la buttano pure su... Vabbè, basta non fermarti, io non mi fermo mai. Eh, ma te la buttano. Mi scusi no. No, no. Io con educazione. Mi scusi no, oppure per cortesia. Per cortesia. Ormai lo sai che c'è sta Ivy che mi fa sempre per cortesia. Ivy? Sì, quando sta un po' nervosetta, no? Ma allunga quei zampetti e si scansa con la faccia. Quello è proprio un per cortesia. Questa volta no? Questa... Ma cos'è quella là? Ho visto tipo una cap che sembrava... Questa volta no? Quella del... Dei video bucca che mi sembrava. Questo... No, questo è il tuo profilo di Instagram. Questo qua è proprio il video standard. Il modo migliore per dimorchiare una ragazza. No, vetti, vetti, vetti. Cioè... Mi sembravi carina, quindi ho pensato di venire a parlarti. Guarda, pensavo andare a prendere un caffè. Se vuoi andare insieme? Dove? Ma questa è pagata... È pagata questa... No, no, perché è pagata? No, chiedo. È pagata, è un'attrice che sta... Appunto... Ah, è un'attrice che sta recitando, no? Cioè, è una dimostrazione di quello che bisogna fare, secondo lui. Non lo so, Davide, io penso che sia l'esatta realtà fattuale dell'universo questo. Ok, ok, ok. No, no, per capire. C'errebbe conoscere nuove ragazze tranquillamente durante la tua quotidianità e trovare finalmente la tua fidanzata ideale? Se la risposta è sì, allora vai avanti a guardare questo video. Se la risposta è no, chiudi immediatamente questo video. Chiudi, chiudi, chiudi! Di solito le persone che entrano in contatto con il mondo degli approcci di giorno... Di solito le persone che entrano in contatto... Di giorno, cioè, incredibile. Non ci riuscirebbe nessuno di noi tre. Ok? Aspetta, Simone. È un grande! Ovvio. Che c'è, Gianlu? Dimmi. Dai. Secondo me tu ci riusciresti tranquillamente. No. Io minimo aspetto tre mesi prima... Del bacio sulla guanza. Sì, sì, sì. Sulla guanza. Oh, grazie dei sabri. Grazie, Giulietto. Uè, grazie. In contatto con il mondo degli approcci di giorno hanno fondamentalmente due obiettivi. O trovare il proprio partner ideale, quindi la propria fidanzata, oppure semplicemente migliorare la... Ma che è? No, no, no! Ma questo è... Cosa? Don John? Aspetta, quella c'è il microfono di dietro, questa qua. Sì, appunto. No, ma questo non è lui, mi sa. Non è lui, ok. Ma non mi sembra lui questo. Ah, ma io che cazzo ne so. Un po' che stavo già a dire. Quello dopo è Don John, mi sa, il film con Scarlett Johansson e Joseph Gordon-Levitt. Vabbè, ma andiamo al suolo, dai. E infatti, non a caso, stanno ottenendo risultati che hanno sempre desiderato con le donne. Approcciare una ragazza di giorno ha diversi vantaggi. Per esempio, non ci sono distrazioni, come nel caso della discoteca. Non c'è la musica alta, non ci sono le amiche e non c'è l'alcol. Non esiste. Quello sembrava... Sembrava... Un buccache. Eh, capito? Però qua ha detto una cavolata. La buccache cap. Tra le cose che non ci sono ed è buono a dire che non c'è l'alcol. Ma a noi quante volte ci capita di entrare ragazze che sono storite dall'alcol? Cioè, questa cosa... L'alcol è il miglior amico dei timidi. L'alcol è il migliore amico per poi procedere in delle pratiche consono. No, giusto, che scherzo. Scherzo, mi dissocio, mi dissocio. Ma che pratiche? Era per far ridere, diciamo. Poiché è una cosa che molti pochi fanno rispetto... Quello è... Quello americano, del biondino. Che c'è il canale del rimorchio. Fa chi l'approccia in discoteca oppure nel chat di incontri. Quindi, di conseguenza, automaticamente scavalchi tutti. E soprattutto è illimitato. Cosa che invece non accade nel tuo circolo sociale di amici, amiche, colleghi di lavoro, eccetera. Di giorno si app... Sai che è quasi quasi, io mi iscrivo. Guarda, io... Allora, quando ho parlato con lui nella live di Livio... Eh, ma spieghiamolo. Lui è stato ospite da Livio. È stato ospite da Livio, ha spiegato, insomma, ero di lavoro. Quindi l'ha scoperto Livio Marcone? Sì, sì, sì. Ma casualmente su YouTube? Ma esatte sì. Chissà perché l'ha scoperto. C'è pure la ragazza di Milano, Livio. Insomma, vabbè. Dice le ricerche correlati, no? Sì, sì, sì. Io ho detto, ma scusa, ma tu... Io ho fatto un po' un trappolozzo, no? Io ho detto, ma tu vedi queste cose, questo approccio, un po' come un cacciatore vede una preda, insomma, una cosa un po' di caccia. Lui fa, beh, sì, fa, dai una merda, fa schifo. Perché comunque c'è, anche a livello morale, a mio avviso, e a livello relazionale, è sminuente vedere un altro essere umano, come semplicemente una preda. Che infatti era anche una critica... Che cazzo di relazioni inizi. Era anche una critica fatta da noi ai play-over. Cioè, è proprio questa totale... È assurdo pensare questa cosa. Mancanza di rispetto. Chi pensa questa cosa è da denuncia, proprio. Ma più che altro sei, cioè... Boh, non lo so, sei un po' un soggetto, capito? Cioè, non è che devi fare un gol, capito? Una partita di pallone. Cioè, boh. Mi sembra l'aspirazione degli sificati, no? Devono rimorchiare, devono scopare tanto, ma solo... Non per il gusto di farlo, che di provare piacere, no? Ma per il... Per dimostrare a se stessi di essere forti. Sì, ma pure il gusto di dire di averlo fatto. Secondo me la grande maggior parte, pure se ci riesce, poi sai come gli pesa... E ci ha buttato 1.400 euro, perché secondo me per questo servizio sono buttati. Vabbè, però non lo sappiamo. Ma noi il suo, servizi così in generale... Ah, sì, per me sì. È legittimo dire io non spenderei un euro, devo essere guadato. Chiaro, chiaro, chiaro. Oh, questo è. Ma in generale per qualsiasi corso di seduzione, per quanto mi riguarda... Sì, sì. Per quanto mi riguarda... Stai rovinando questa camisetta blu elettrica. Non mi piacciono i corsi di seduzione. Ma assolutamente no. Neanche a me. Che dobbiamo fare? Sparci una ragazza che sbagli qualcosa, dopo due minuti ne ripassa un'altra. Nel tuo circolo... C'è una catena di montaggio. Sì, capito. Top chaplin. Sì, sì. Non hanno un valore intrinseco. Sono solo degli involucri che passano uno dietro l'altro. Delle membrane. Delle membrane. Sì, sì, sì. Involucro membrane. Vorremmo raccontare questa cosa, sì. Un'altra volta. No, non l'abbiamo mai... Vabbè, velocemente. Te mi ricordo una serata. Do cazzo stavamo? Eh, a uno di quei posti dove andavamo l'altorno. Al Monc, sì. Era due anni fa, perché stavo singolo io. Sì, mi pare di sì. Era due anni fa. Tipo, stavamo in fila per cesso e c'erano due ragazze. E praticamente queste ragazze chiedono a Gianluca... Possiamo andare noi prima? Lui stava prima nella fila. Io stavo in fila da 25 minuti. Gianluca gli sbrocca. No, aspetta. Giù che fa perché... E quelle fa perché siamo ragazzi. E lui ha tipo tiltato davanti a tutto il locale. Ma a me che cazzo me ne frega? Cioè, le donne sono solo delle membrane. Degli involucri. Io ho detto così. Volete la parità dei sessi? E mo mi vuoi passare avanti perché sei donna. Tu in questo caso per me sei solo un involucro. C'è una membrana. Vatti a mettere in fila. Una membrana. Una membrana fa troppo ridere. Tutto modificato che sbiascicava. Che tempi. Sociale di amici e amiche. Magari le ragazze più belle sono anche già prese. Ma comunque siete in un numero limitato. In conseguenza, puoi conoscere solo un certo numero limitato di ragazze. E se la ragazza che ti piace non c'è in quel gruppo, ti devi accontentare. Di giorno non devi accontentarti. Poiché il numero di ragazze disponibili è illimitato. Lo so, all'inizio è molto facile essere scettico riguardo a questo mondo. Proprio perché, come dicevo prima, è una cosa che molti pochi fanno. Però... È normale essere scettici. Bisogna essere sempre scettici nella vita. Su tutto. Ma ti pare che... Soprattutto su chi vuole venderti qualcosa. Tra le lecite preoccupazioni, non quelle assurde, ma le lecite preoccupazioni che una ragazza può avere quando gira per una città, mo' deve anche avere... Mo' incontro un alunno di qualche corso di rimorchio. Cioè, mamma mia che cringe proprio. Mi dispiace per voi ragazze milanesi. Sì, perché tanto queste cose sono sempre al nord, per fortuna ancora. Mo' al sud arriveranno, Gennaro... Ma al sud sono esperti, al sud non c'hanno bisogno di questo. Che ne hai visto a Napoli? Fischiano, hanno fatto. 1.400 euro, forse a Napoli. Allora, a corso di oggi, come catturare l'attenzione? Finito. Tutti a casa. Allora, io ho visto centri approssi a Napoli, fantastici. Se fermano, eh? Se fermano. Se fermano. Se fermano i ragazzi a Napoli. Ah, dice proprio nella cultura. Ma l'ho visto con i miei occhi. È una cosa... Il catcalling è... Il nord, invece, purtroppo, c'è bisogno di tutto un attacco meccanico-linguistico. Meccanico-linguistico. Quindi possiamo dire che il catcalling in realtà è una professione culturale. Cioè, è solo Napoletano il catcalling e gli altri l'hanno copiato. Se ne sono appropriati. Al sud si scopa. È anche vero che magari le ragazze più del nord sono più fredde. Vi chiedo uno stereotipo o no? Perché comunque a volte non mi è sembrato tanto uno stereotipo, eh. Cioè, non che quelle del nord siano fredde, ma quelle del sud sono calorose. Questo sì. È uno stereotipo, ma è indubbio. Magari a confronto con quelle del sud, quelle del nord appaiono fredde, anche se non sono propriamente fredde. Allora, è uno stereotipo, ma è indubbio che ci siano delle differenze tra alcune città del sud e alcune del nord, proprio a livello culturale. Ma è uno stereotipo che non è un 100% fattuale, però per una percentuale un po' più alta è vero. Infatti, dicevo che ad esempio alcune pratiche, come il catcalling, sono più diffuse magari in città dove la considerazione della donna è minore. Perché c'è ancora un retaggio, no? I classici paesini, ok? Dove, ovviamente, la donna ancora è vista un po' come quella che deve stare a casa, zitta e lava, l'uomo figo. Gli ultimi paluardi della società. Della società che funziona. E quindi proteggiamoli tipo i panda. Sì, capisci, sono delle riserve naturali. Dove con il cetta, stanno lì quei cazzo di gatti e il vestito a fiori, non ancora passivo. Gli indiani d'America, ne mi riserve, capisci? Ti posso assicurare, per profonda competenza, ho alle spalle oltre 2500 ore di pratica e 4 anni di esperienza. Ti posso assicurare che è possibile. 24 anni di esperienza, che lui quando c'aveva due anni e stava già scopato. Sì, sì. A due anni già cimentava le tipe. Bisogna impararlo. Quindi puoi decidere anche tu di dare un'occhiata a questo mondo. A Redpill. Se lo fai sei Redpillato. A Redpill. Se non fai questo corso vivi nell'illusione. Per tutta la vita. Il prodotto è una cosa che mi sono dimenticato. Ah, sì. In tutte queste clip che lui mette, lui ha uno sguardo terrorizzato. Non mi ispira proprio... Sì, sì. Stai a spalle oltre. L'ho detto prima la postura. Guarda, guarda. Cioè, mi dispiace, ma non mi convince a comprare il tuo prodotto. 500 ore di pratica e quattro... Cioè, va? Vedi, sta tutto... Guarda, manimorato. Calla manina. Calla manina. Calla manina tutta... Morbida. Genofless. ...di esperienza. Ti posso assicurare che... Hai capito? Qua sta terrorizzato. Eh, eh. Qua sta anche i gambetti, tipo per saluto romano. Ti posso assicurare? Ma poi, in generale, ma queste ragazze non sanno di essere riprese, perché... Infatti questo ho chiesto prima. Cioè, sono consapevoli, sono attrici... Io scuro la faccia. Eh, boh. Io non vorrei che il mio primo appuntamento fosse ripreso, anche se mi oscuri la faccia. Cioè, che cazzo vuoi? Cioè, non è... Non è per dire che mi fai una domanda per strada a un giornalista, che sto andando a un appuntamento. Tipo quello che abbiamo fatto noi, Dimensioni Conta, no? Ma sì, ma... Ma l'abbiamo proprio detto, no? Cioè, stiamo là, qua la camera. Cioè, c'è una telecamera gigante in mano, grazie. Però, un appuntamento è diverso. Ma poi fai le domande e loro guardano lì, invece tu magari stai per cazzi i tuoi. Certo. Non è che è possibile. Cioè, una cosa in teoria più privata, di fermare una per strada e fai una domanda. Non è che, dico, mai riprendere le persone, però... Però, bisogna impararlo. Quindi puoi decidere anche tu di dare un'occhiata a questo mondo. Oppure... Lui che parla con una ragazza, che può essere tutto. Può essere pure che tu fai scusi, che ore sono? C'ho la ripresa di due o tre secondi, magari con una strategia. O magari si è finto gay. Quindi per ora, per ora, io non sono per niente convinto. Perché non vedo proprio approcci realistici. Tesoro, ti posso accompagnare da Zara? C'è qualche approccio proprio? Chiamiamolo, sì. Perché per ora è un cazzo. No, chiamiamolo, sì, te prego. Te ne faccio 500. Il mio assistente. No, chiamiamolo subito. Che non è lui, ovviamente. Chiamiamolo subito. Sì, non è lui. Chiamiamolo subito. Avrà sicuramente molte persone che lavoreranno con lui, chissà chi ci risponde. Però ammò hai fatto un uomo. Noi non avvaliamo il chiamare questo numero. No, lo chiamiamo seriamente, cioè perché chiede informazioni. Come funziona? Mica a piello per culo. Io sono curioso della conversazione per principianti. Il corso più completo di Dania... Posso dire una cosa? Regà, vi prego, non rompete il cazzo, davvero. Cioè, no, perché mo' cominciano, chiamano, non fate i coglioni, veramente. Noi prendiamo le... No, davvero, dai. Da persone esterne, nonché sconosciute, che possano fare qualsiasi cosa, noi non c'entriamo nulla. Qua lo diciamo. Sì, tra l'altro ho visto un post oggi che mi hanno mandato su Facebook di una tizia che ha condiviso degli screen del tuo gruppo, Simone. Dove? Uno screen di una ragazza su Facebook, mi hanno mandato. Eh? Che ha condiviso screen del tuo gruppo, gli amici dello Quendico. Eh? Scrivendo tipo, ecco, guardate la fanbase del Cerbero, se la prendono con le streamer donne, perché, eh, questi del Cerbero hanno cercato appositamente questo pubblico, eccetera. Tra l'altro quello è pure il gruppo tuo, non è il gruppo del Cerbero e là dentro metà odiano te e metà odiano il Cerbero, quindi non è il nostro pubblico. Io ho letto, ci sono delle cose bannabili, lo stanno scrivendo in tanti. Ah, va bene. Vediamo un altro video. Io ho letto il Chitano in chat, che ha scritto. Non ho letto. Sul suo sito ci sono delle immagini di nudo. Greve. Di queste ragazze con la volta oscurata, che non le trovo sul suo sito. Grazie, Chitano. Non so se era una battuta. Aspetta un attimo. No, appunto, non so se era una battuta o non so. Una battuta. Guarda i miei risultati. Greve. Guarda i miei risultati è grevissimo. Vai, vai, vai. Aspettate, link nascosto. Per via della natura dei contenuti. La pagina contiene una decina di raccolte di mie esperienze reali dell'approccio al sesso con tanto di foto per dimostrarlo. Ma questa è una cosa gravissima. Spero che almeno ci sia, esatto, l'autorizzazione delle ragazze, mi auguro. Se no è da denuncia instant. Ma allora vuoi proprio fare queste cose per poi querelare chi parla di te? Ah, vedi, la pagina tornerà disponibile a breve per tutti dopo aver effettuato maggiore censura su alcune foto. Ma allora vuol dire che non c'era. No, regà, ma che cazzo è? No, ma questa è una cosa gravissima. Ma è assurda sta cosa. Dai, qua abbiamo superato molti limiti, eh. Neanche uno. Vivio, che cosa intendi per non ce l'ha? Lo ha messo in live da me. Che cosa non ha? Non ha autorizzazione. Ah, l'autorizzazione. No. L'autorizzazione però dice, sto leggendo la chat, non ha, Marco Chitano dice, non ha autorizzazione però dice che sono censurate le facce ma i culi no. Ma che cazzo fa? Ma che vuol dire? Ma se uno condivide una foto del mio cazzo, mi oscura la faccia e va bene uguale. Cioè, ma che cazzo è? Se lo faccio io, sono Weinstein. Ma soprattutto di nudo. No, ma questa cosa è da denunciare, non sto scherzando, eh. Cioè, uno veramente parla costantemente di problemi relativi, no, alla divulgazione di foto intime, i problemi delle chat di Telegram, cioè. Questo non è un corso per i morchiari. Ma che è sta roba? I risultati numero uno in Italia. Dai. Per quanto, no, no, no. Per quanto riguarda gli approcci di giorno per strada. Andare a letto con due ragazzi diversi in due giorni. Allora sei forte, sì. Sei figo, sì. Dopo un numero di assenza nel mondo del day game, causa lavoro, ho contattato Luca per due ore di coaching. La sessione inizia con una breve chiacchierata circa i miei obiettivi. F-close sesso. Alla fine la sessione conclusa con quattro N-close, di cui due voi diventeranno F-close. Su cinque approcci possiamo alla fase di debriefing. Cioè, è proprio una cosa analitica, militaristica quasi. Ho una proposta che palle, cioè, dovrebbe essere un piacere, no? Frequentare una ragazza, trombare, cioè diventa un piano de marketing. Sì. Cioè. Ho una proposta. Ma che è sta follia? Dimmi tutto Gianluca. Goliardica. Vai. Goliardica. Irl, noi e te, vediamo che risultato esce fuori. Ci sta. Mamma mia. Sto per esplodere. Nel merito, no? Sto per esplodere. Goliardica, eh, Goliardica. Vediamo, vediamo. Ciao. Ma che cringe è? Vabbè, le coppie si fanno le foto che si baciano. Ok, consensualmente. Ah, no. Sì, ma qua si tratta di falla con... Questo qua. Sono tutti questi. Vabbè, aprine un altro, dai, uno breve. Come toccare una ragazza. Greve. Greve. Ciao, io sono Luca di approcciala.it e in questo video parleremo di... Ma c'è troppa, grazie. Come fare contatto fisico con una ragazza sconosciuta. Come toccare una ragazza che non è mai conosciuta, che potrebbe non accettare il tuo tocco. Allora, questa sarà una guida abbastanza pratica su come fare contatto fisico con una ragazza. Ricordiamoci che stiamo parlando di approcci di giorno per strada da ragazze sconosciute. Fondamentale, questo. Chiaramente per dettagli in più consiglio di partecipare a un corso al vivo. Quindi lì si impara tutto quello che c'è da sapere dall'A alla Z sul come fare contatto fisico. Qui vediamo comunque diversi contenuti che possono comunque essere utili. Io consiglierei... La prima cosa è da segnalarsi cinque mosse. No, no, non puoi. Vabbè, un consiglio. Corso di edizione. Sì, sì, sì. Vabbè, c'è da 100.000 anni. No, ma non tanto quello. Proprio... Ma io consiglio, come dici tu, un corso di videomaking che c'è quest'area sulla testa. Sì, esatto. Sì, anche l'audio non è dei migliori, direi. di contatto fisico dalla più leggera fino alla più pesante. La più pesante deve essere appunto il bacio. È lo schiaffone! La più pesante è il schiaffone! Il doppio schiaffo! La più pesante è quella che si fa a ser of cam. No, no, no. La più pesante è il doppio schiaffo alla Bud Spencer. Con l'effetto sotto. Oppure che ce l'hai presente, vada. Con le onomatopee. Funziona tipo una cifra, perché tu fai lo schiaffo, poi torni di ma rovescio, quindi è come se sposti e poi li metti a posto, capito? Sì, sì. Smonti e rimonti. Va bene. È una tattica... Magari si può partire con una stretta in mano, quindi poi ricordiamoci che comunque in strada, in un approccio magari di 10-15 minuti, a meno che poi dopo non andate in instant date, quindi a prendervi un caffè, non è che si può fare molto contatto fisico. È anche sconsigliato fare troppo contatto fisico nei primi minuti in strada. Non è necessario, non ci sono neanche grossi benefici dal farlo. E comunque quando capita che puoi fare contatto fisico già pesante in strada, diciamo, è abbastanza raro, quindi non è un caso da tenere in considerazione. Quindi si parte da cose più leggere, come la strada di mano, poi magari, non so, le prendi la mano per guardarle le unghie, poi testi un po' come reagisce la tua vicinanza fisica, poi magari le... ma che belle unghie che hai tesoro! No, a parte i scherzi e tutto, io vorrei fare i complimenti a questo ragazzo per il grande carisma. No, sì, no, è trasuda. Lo trasuda. Secondo me 80% è quello, eh. Sì, sì, grazie. Imotep, 17 mesi. Top. Più carisma è il banner www.approcciola.it in alto a sinistra, però. Che è orribile, tra l'altro, però. Uno dei banner più brutti. La storia ricordi, proprio. Ma io ti amo vedere il grafico, mio caro, eh. Mamma mia. La baci sulla guancia, quindi tutta una progressione da una mossa più leggera fino a poi a quella più pesante. Vai, cerchiamo di... No, no, non è un'offesa, in realtà. Ma chi ti sembra? Cos'è che io ce l'ho presente? Mi sembra il doppio, in versione negativa, però. Non negativa nel senso cattivo, proprio negativa come la fotografia. Eh? Di Crepaldi. De Marco. Sembra Bad Crepaldi. L'ho pensato pure io. Bad Crepaldi, sì. Ti giuro, sì, l'ho pensato pure io. In Twin Peaks. Il gemello che è giuro, eh. Il gemello tipo Enemy, capito? Sembra l'altro... Evil Crepaldi, eh. Evil Crepaldi. Dovrebbe essere il bacio. Quindi segnarsi 5-6 mosse di contatto fisico, dalla più leggera alla più pesante, e non vai alla successiva... Grepaldi. 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 Da oggi in poi l'utilità Grepaldi. È un bellissimo nome. Chi è che l'ha scritto? Lo so, un po' l'ha scritto. Grepaldi. È un nome stupendo, Grepaldi. Vediamo Grepaldi che ci dici. Finché comunque non hai completato quella precedente. Quindi se lei non ti ha neanche stretto la mano, non andare poi alla mossa successiva. È proprio schifare il cazzo. Prima fai la stretta di mano. E poi dopo, ecco la dopo. Per capire che se neanche ti si avvicina per sbaglio, non devi baciarla immediatamente. Ma è fondamentale. Se neanche ti stringiamo... Te va per cortesia e tu... Così, no? Parti a bomba. È un po' creepy sta cosa. Potrebbe pure dire un po' un creepaldi. Se lei si rifiuta di stringerti la mano, potrebbe non essere un approccio di successo. Grazie. Il corso viene dato come bonus solo a chi partecipa ai corsi al vivo. Ci sono tutta una serie, diciamo, di mosse di escalation fisica. Diciamo, è un menu completo. E poi ne puoi scegliere 5 o 6 da quelle. E appunto, ricordo che l'audiocorso viene dato come bonus solo a chi partecipa ai corsi al vivo. Quindi, questo qua è la prima cosa. Segnarsi 5 mosse e non vai alla prossima finché non hai completato quella precedente. Ma pensa che pale, pensa che ansia. Ma che sto fanno? Un esame universitario? Sta a fare esame della patente. Comunque sto taglio dei capelli alla malgioio, però è completamente black, ce sta pure. È fondamentale pure il taglio dei capelli. Beh, fa parte... di curarlo a chi ci segue. Magari è meglio così completamente black. Ma comunque sono molto belli. Fa parte del carisma, Gianluca. Quelli dei... O fai contatto fisico, finisci in zona amicizia. Ok? La frenza. È molto... Non è molto improbabile. È impossibile che senza fare contatto fisico la ragazza comunque poi voglia fare sesso con te. Questa è una cazzata incredibile! Cioè? Io sono uno che è molto centellinato con il contatto fisico. Ah beh, però... Eppure... Ah beh, però ci sono degli step automatici. Sì, che vengono naturali. Ah sì, e quello è il punto. Cioè, non è che ti devi scrivere sull'agenda. Aspetta, scusami un attimo, controllo un attimo qui. Allora, abbiamo fatto stretta di mano. Adesso direi abbraccio. Poi parcheggio a destra e indietro. Ok, manina sulla spalla, manina sul fianco, culo, bacio, leccata di fig... No, 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 no. Prima c'è pomiciata. Leccata di fregna, scopata. Giusto? Per me la leccata di fregna viene dopo. È più intima. Cioè? La leccata di fregna è più intima della scopata. Vabbè, però prima di chiamare un po' di lubrificazione. Io preferisco l'inizio, sai. Io preferisco l'inizio. Un po' di lubrificazione. D'altronde si chiama preliminare. Comunque, ah, cazzo che mi è venuto in mente. Noi stiamo attuando un progetto qui al Cerbero Podcast che viene illustrato da questa storia. Questa? No. Questa. Cercasi tre ragazze per lavoro retribuito, fatturato dalla Sdrubalini SRLS. Di Roma o dintorni, autonome negli spostamenti, maggiorenni, bella presenza, disinibite, minime abilità di ballo, immuni al cringe, no covid munite e telegeniche. Scrivete in privato a me, Mr. Flameson, Mr. Marra e Cerbero Podcast Real, se interessate. Dobbiamo, ci servono delle ragazze. Immagine. Non possiamo dire, non possiamo dire per quale format. Vabbè, qualche informazione. C'è un ninja di altri creatori di contenuti che non sanno fare un cazzo. Non è un casting per un film porno. No. 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 E poi è il bello che non so un cazzo. Vabbè. Sì, ma l'avete accennato proprio vagamente. No, ti abbiamo buttato dentro questa cosa con prepotenza, ma è una cosa, secondo me... Ah, però io mi fido. È una cosa... Fidati. È una cosa pionieristica. Top Berlusconi. È valida, è valida, perché il Cerbero dovrà prendere una direzione di un certo tipo. Le veline! Tu già hai fatto il tuo. Cioè? Esternamente da Pornhub. Ok. Io sarò il nuovo schicchi. Ma greve, sì. E Simone... Io che cazzo vuoi? Vabbè, io non voglio prima sapere bene i dettagli, però. No, è scherzo. Ah, ok. Ma però allora... Simone, Ezio Greggio. Esatto. Io voglio dire una cosa. Nella storia dell'umanità, tutti i grandi imprenditori hanno delle costanti, delle tappe costanti nella loro vita. Stai facendo paura, comunque? Eh? Mi stai facendo paura. No. Perché no? Fammi spiegare. Top Berlusconi. Uno dei tanti, però non è per forza lui, anche altri. Cosa dobbiamo fare noi, in quanto imprenditori nella Sdrubalini SRLS? Dobbiamo investire... Nella figa? Sul mattone e nella sorca. Esatto. Due cose. Cos'è che la gente vuole pop contenuto? Belle presenze. Ma non ho capito, ma devono fare eveline. No, non spiegheriamo. Io non voglio questa sessualizzazione delle donne. No, no, nessuna sessualizzazione. Nessuna sessualizzazione. Mattone, gossip e sorca. Striscia la notizia, Antonio Ricci. Bella merda. Cebbero Podcast 2020. No, io non sono d'accordo. Leveline? Leveline? Le premesse non mi piacciono, però vedremo. Leveline? Oh. E non è... Saranno addormentati. Stanno a fare dei crack in bagno. Vabbè. Comunque... L'approfondiremo successivamente. Io sono un po' scettico, però vabbè, mi fido dei miei colleghi. Ma infatti, come dice anche Grevaldi, si fa bene essere scettici all'inizio. Giusto. Però bisogna pure dare una possibilità. Sì, sì, ma mi fido dei miei colleghi. Io sono sicuro che 5.000 persone saranno quasi tutte contente. Ok. Non succede, ok? Devi tenere in considerazione che per arrivare al sesso devi fare contatto fisico, che ti piaccia o no. Infatti, uno degli errori tipici che si fanno negli appuntamenti è il non fare contatto fisico, oppure non sai come fare contatto fisico, quindi aspetti fino alla fine, non fai molto contatto fisico, oppure proprio zero, e alla fine poi ti stupisci il fatto che non ti voglia baciare e poi ti stupisci il fatto che non ti voglia rivedere. È ovvio che non ti voglia rivedere perché non ti sei comportato da uomo, ti sei comportato da amico, l'amico che appunto non fa il contatto fisico, ok? Quindi, se non fai contatto fisico, finisci in zona amicizia, che appunto è uno degli errori tipici che fanno gli uomini durante gli appuntamenti. Poi, un'altra cosa che ho già spiegato in altri video, e in un altro video qualche giorno fa se non sbaglio, è del non focalizzarti troppo sui segnali positivi, ok? Capita molto poco che comunque la ragazza sappia anche lei come si fa contatto fisico e che ti dia segnali positivi a livello di contatto fisico, quindi non stare troppo ad aspettare questi segnali perché la maggior parte delle volte non arrivano. Non perché la ragazza non sia interessata, perché semplicemente magari è impacciata, magari non sa come si fa contatto fisico, magari non sa che deve darti un po' di segnali positivi perché appunto i uomini tendono ad aspettare molti segnali positivi perché non capiscono che la ragazza è interessata, eccetera, quindi non stare ad aspettare troppi segnali positivi. I segnali neutrali sono i segnali positivi, ok? Quindi canciare i segnali positivi se comunque lei si lascia toccare, si lascia fare... Comunque, per quelli che stanno a rompere il cazzo in chat, non è una cosa... è un'idea per una live, non è una cosa... Ah, non è un format? No, 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 è una live, una tantum. Ok, allora... Non gigantiamo le cose. No, ma immaginavo davvero quelle mallette di strisce, cioè mi sarei rifiutato. Ma poi dovremmo farle vivere qui, cioè... Beh, vabbè, quello... Toccherebbe far stare qua tre ragazze 24H. Tre fregni 24H a casa nostra, ma che cosa orribile. Che cosa orribile. Beh, Alex, scusami. Io, francamente, già ho avuto animali domestici. Io ho tuttora un animale domestico. Eppure me ne devo fare un altro, poi in più altre persone a casa, poi in più già ce ne sono altre, insomma, ci sono un sacco di criticità. La stanza non è così. No, veramente, sì, mi sarei dissociato in quel caso. Me ne sarei andato a muschio selvaggio, buttando fuori quell'incompetente di Sal. Ma scegliete voi. Scherzo, un abbraccio. Assumi che comunque è interessata, sta andando bene, ok? Quindi, lascia stare i segnali positivi, i segnali neutrali diventano i nuovi segnali positivi. Poi, l'altro concetto da tenere a mente è passo avanti e passo indietro. Quindi, quando sei contattato di fisico, ti fa un balletto, ti fa un bambu italiano, un bambu italiano! Durudurù. Se non lo pensavo, volevo soffrire qualcosa da bere. Una cassata, una lanciata, un bicchiere di pompelmo. Metodo funzionante, 100%, no errori. Non so, le prendi la mano per guardare le unghie. Poi dopo... Ancora questa cosa, perché do guardare le unghie? Ma già, ma non ha senso. Ma questa è una cosa da amico. Gay. Ecco, una cosa da... No, no, Davide, no! Ma non è una cosa brutta, che è? Comunque, rifai un attimo il passetto, Giallo. E si merita! Faccio vedere la verità! E io ecco, mi si merita! Faccio vedere la verità! in piedi, in piedi! In piedi, in piedi! Sono chiusi i piedi! Top piedini! Sono chiusi i piedini! Attenzione, qui! Inquedante tembraccia, nel film horror, guarda! Orgoddio! Non aprite quella... non aprite quella Cerbero House! Mamma mia, ma chi cazzo? Venite a questi contenuti, porco il demonio! A me c'è il vero podcast, non piace! Non piace perché sono maschilisti! Mamma, lo sai che porta questi contenuti? Ai... Ai... Ai Vance! Io già mi immagino i best-off, questa scena qua! Sì, i balletti di Flame sono patrimonio dell'UNESCO! Subito alla mossa successiva, che magari potrebbe essere il andare un po' più vicino per vedere come reagisce alla tua vicinanza fisica! Non andare subito alla mossa successiva! Poi dipende da quale mosse ti sei segnato! E comunque un errore, diciamo, tipico, è poi il segnarsi 5-6 mosse e confinarsi a quelle 5-6 mosse! No! Se te ne vengono in mente altre, se ti viene naturale farne altre, va bene! Quella è una struttura di base che ti segni per avere una traccia, ma comunque non confinarti solo a quello, ok? Quindi, appunto, passo avanti e passo indietro! Se magari, poi appunto, le vai vicino! Qui in chat dicono che sembra teso nel girare questo video! Ma guarda, io adesso non è che voglio lanciarmi in definizione estreme, però a me trasmette esattamente l'opposto di ciò che vorrebbe vendere, anzi, di ciò che vuole vendere. Questa è una cosa un po' greve per gli imprenditori. Perché immagino che venda. Conoscevo un amico... A me trasmette tutto in sicurezza, mi sembra impacciato, boh, non lo so. Conoscevo un amico che non trombava mai, conoscevo un amico che non trombava mai? Eh. Fa una certa crescendo, sei riuscito a fare le sue scopatine, era talmente tanto in sicuro che si è aperto un corso di rimorchio per far vedere tutti quanti che lui scopava, ma in realtà era tutta quanta furfa. Qui ci faccio i soldi, c'ho lo status, magari trombo grazie allo status, perché prima non trombavo. Questo mio amico ha fallito. Beh, è una storia tristissima. Molto triste. Come si chiamava il tuo amico? Alfonso. Ah, Alfonso. Signorini, no. Prima di andare alla mossa successiva, lui è un gru. Prima, torna indietro, continua la conversazione, magari dopo 10 minuti, 15 minuti, fai la mossa successiva, ok? Quindi deve essere un passo avanti, passo indietro, passo avanti, passo indietro. Se è sempre passo avanti, passo avanti, passo avanti, delle volte può andare bene, ma, delle volte a volte passi per bisognoso, magari le metti troppa pressione e non va bene. Quindi passo avanti e passo indietro. Non fare sempre passo avanti, passo avanti, passo avanti, passo avanti. Vabbè, poi lei cadde in un tombino. A spingi mezz'altra, dai, vai inizio dei boys. È un istruttore ballando quelle stelle, praticamente. Paso doble, capito? Ma che burdi è il passo avanti? Un'altra cosa è il buttarsi quando sai che vorresti fare contatto fisico, sai che vorresti toccarla, sai che lei potrebbe anche rispondere bene, sta andando bene l'interazione, però non lo fai. Quello è un errore enorme. È un errore gravissimo. Fa andare giù la trazione in una maniera incredibile, che è poi appunto il motivo per cui gli appuntamenti vanno male. Perché? Non si fa contatto fisico e perché non si fa contatto fisico? Perché? Ho paura di come reagirà e se pensi che sono un maniaco e di qui e di là tutte pare mentali che poi ti portano a non fare contatto fisico, che la maggior parte di volte è semplicemente paura di come possa reagire, paura magari di un rifiuto. Quando lo stai pensando... Ma questa è una cosa un po'... un po' disgustosa però, eh? Eh? Tu che ne pensi, da? Ah sì, te l'ho detto quello che penso. No, ma questa, questa. Paura di come possa reagire, paura magari di un rifiuto. Quando lo stai pensando, se tu ti censuri sul contatto fisico, quando lo stai pensando... A Giallù. Quando lo stai pensando... Guarda... Magari a video... Guarda solo, levo un secondo il layout perché si deve vedere bene. Guarda, a Giallù. Paura di come possa reagire, paura magari di un rifiuto. Quando lo stai pensando, se tu ti censuri sul contatto fisico, quindi non sto dicendo di essere scalibrati, cioè non sto dicendo che se dopo 5 minuti che sei all'appuntamento pensi di volerla baciare. Non è colpa sua. E quindi non ti devi censurare perché devi seguire il mio consiglio. Vabbè, un po' di salivazione. Non sto dicendo quello. È normale, è normale. Se a un certo punto l'interazione sta andando bene, lei vedi che è attratta e vorresti fare contatto fisico, magari vorresti baciarla, ma ti censuri, questa cosa fa andare giù l'attrazione in una maniera incredibile. Quindi il consiglio è quando senti che lo puoi fare e che lo vorresti fare, buttati. Perché altrimenti poi quando perdi queste occasioni è proprio lì il momento e gli appuntamenti iniziano ad andare male e poi la ragazza non ti vuole più rivedere. Perché ha visto che non hai avuto coraggio di baciarla, non hai avuto coraggio di fare contatto fisico e le ragazze lo vedono. Sono molto più sensibili di noi su queste cose. Lei lo vede che stai pensando magari di baciarla e magari inizi a... Stai avendo un problema tecnico, non hai avuto un problema tecnico, non hai avuto un problema tecnico, non hai avuto un problema tecnico, inizia a divagare col discorso, vedi che stai pensando. Quindi il consiglio è quando vedi che lo vorresti fare e che lo puoi anche fare perché l'interazione sta andando bene, non censurarti e buttati. Altrimenti la trazione va giù e appunto non ti andrà male e non la rivedrai più. E poi l'altra cosa è fare tanta pratica. Ora, come si fa a fare tanta pratica? Perché appunto questa paura di fare contatto fisico, questa paura di baciarla è normale, ok? Però la si supera facendolo tante volte, facendo tanta pratica. Il problema è che comunque se fai un appuntamento al mese, se fai due appuntamenti al mese, ora magari per chi è esterno a questo mondo, per chi si sta facendo bello, proprio in questo mondo potrebbe dire due appuntamenti al mese è già picchia. Bello, sì. Tanta roba. Sembra un quadro. Sì, ma comunque sono troppi pochi se vuoi fare pratica sul contatto fisico, ok? È diverso se magari vuoi fare pratica sull'ansia di approccio, basta che continuano a passare ragazze, puoi praticare l'ansia di approccio, puoi praticare come superare l'ansia di approccio in maniera molto veloce. Perché comunque passano tante ragazze per strada. Ma se vuoi praticare il contatto fisico, prima devi trovarti in una situazione in cui puoi praticare il contatto fisico. Quindi devi trovarti in un appuntamento. Come si risolve questa cosa? Perché comunque quanti voi appuntamenti vuoi poter fare? Magari uno a settimana su quattro ragazze al mese? Se comunque sei più esperto e puoi fare anche più di quattro al mese, ma farai un appuntamento al massimo quattro appuntamenti quando sei agli inizi. Ma la verità è che comunque ne farai uno o due al mese. Da ora risolvo anche questo bug del colore che non capisco che cazzo è. Ah ecco. Ah ok, c'è il filtro sopra. Abbiamo già rimediato una delle tre vallette. Un virus. Un virus. Un virus. Quando sei agli inizi. Quindi non è che c'è molta possibilità di praticare. La possibilità di praticare ce l'hai facendo instant date. quindi quando fai un appuntamento istantaneo. Quindi ho già fatto un video riguardo a questo. Trovi magari il link in descrizione su come appunto si fa un instant date. Quindi un instant date è semplicemente quando la ragazza è libera sta andando bene in interazione e la inviti subito a prendere un caffè o magari a bere qualcos'altro a sedervi a qualche parte eccetera. Quindi è un appuntamento subito di suo momento. Quindi in questo modo si può fare pratica di appuntamenti molto più velocemente rispetto a organizzare. Mi sa che per vedere i video di pratica di questo ragazzo bisogna sborsare 1.400 euro. Io li investirei. Con tutto il bene che gli posso volere. Quasi quasi. Ma sì dai facciamolo Simo. Vedete le info sui corsi dal vivo. Aspetta leggiamo leggiamo. Sì lo so starei pensando che è esagerato uscire con una nuova ragazza ogni giorno. Probabilmente penserei che sia impossibile. No. Sicuramente non hai nemmeno il tempo ma se invece fosse possibile quindi cioè riescono anche ad aumentare le ore del giorno. Ma a me non interessa uscire con una diversa ogni giorno. Lascia che ti aiuti a fare chiarezza. Cioè è proprio il contrario. Sai cos'è un instant date Simone? Tradotto letteralmente in italiano sarebbe appuntamento istantaneo. Non l'avrei mai detto. Ovvero quando conosci una ragazza di giorno lei è libera dopo 5, 10, 15 minuti di conversazione andate a prendervi un caffè o a bere qualcosa insieme subito. Andiamo grazie. Ragazzi sono le 16 ma io starei live altre 6 ore perché non ho più nulla in questo mondo. Grazie. Oltre il cerbero. No. Sto finalmente capendo gli streamer. Stanno là grazie per il sub perché c'è ad attenderli fa un po' lo streamer medio oltre il varco lo streamer standard di Twitch guarda poi ti mette Spotify sottofondo per non far sentire un vuoto. Lo streamer medio di Twitch è questo proprio c'è proprio che stanno così grazie per i beat fratelli è così veramente grazie per i beat fate lì stanno col giochetto no? c'è la musica così che si capisce il cazzo grazie per i beat bomber ma chi è il dissing? A nessuno sì è una cosa generale grazie per i beat bomber no no io non mi riferisco a nessuno bomber e gabbo no gabbo dice bomber dice bomber ne manco lo sa ragazzi gabbo è grande nessun dissing quando si fa del dissing noi facciamo il nome quindi qua che mi mette da di nomi a cazzo con noi non vado ok facciamo i nomi perché se io devo dire che tizio è un coglione lo dico infatti già è stato detto perché facciamo i nomi ovvero quando luce ragazze di giorno è lì questa è una cosa che agli inizi ti sembrerà molto fuori dalla realtà ma con un po' di pratica mirata diventa una realtà tutti i giorni e presto diventi sommerso di ragazze da rivedere sommerso proprio è una cosa incredibile è qualcosa che puoi trovare solo negli approcci i ragazzi stanno arriva mi ricordo che quando ho iniziato con gli instant poi instant sarebbe instant analfabeta dell'inglese che non sei altro breve un english blin english blin instant il primo mese ne ho contati 14 ma l'ha scritto male sempre si ah no qua l'ha scritto bene vabbè allora mi scuso era un typo è vero uscire con una ragazza diversa ogni giorno pensa aspetta aspetta a chi ti stai affidando queste sono le referenze importanti allora a chi ti stai affidando uno l'unico coach in italia specializzato sul day game che vuol dire conoscere ragazze di giorno comunque posso dire una cosa secondo me adesso cioè stare in corsa nel accrappiarsi il primato in qualcosa e quindi uno si inventa la qualunque per dire sono il primo ma sei l'unico come per dire sono il primo in italia a fare le streaming in una caverna di merda siamo i primi in italia ma che vuol dire siamo i primi in italia ad avere Gesù come quadro all'interno della propria postazione noi siamo solamente i primi in italia nel chat chatting di twitch non vantiamoci non vantiamoci io vorrei stare al posto di questo signorino poi andiamo avanti andiamo avanti sarebbe un vanto le persone pur di evadere dalla dalla consapevolezza di un'esistenza insignificante ti inventerebbero di essere prime di qualsiasi cosa vedi l'iccardo insomma ti insegno ti insegno poi non capisco perché prima parla l'unico coccinitario poi ti insegno anche la parte finale sul come si arriva al sesso ma poi vabbè mi ha scritto anche di merda l'esperienza sul campo tutti i giorni da cinque anni cioè questo è un fancazzo nella vita no se non provare a rimorchiare tutti i giorni tutti i giorni oltre 3.000 ore di pratica fosse vero ma pensa che palle in un giorno ci sono 24 ore ok quante sono le ore però in cui uno è sveglio e soprattutto giorno 24 meno dobbiamo anche considerare che d'inverno fa buio prima ok quante ore di giorno in media ci sono in un anno 5 6 5 ore di sole vabbè si impenso che va dalle 6 del mattino facciamo dalle 8 del mattino dalle 8 addirittura c'è già pronto lì dalle 10 abbiamo i lavori forzati in media 10-17 ma io metterei 10-16 8 ore dai 8 ore 8 8 8 8 è vero d'inverno è so giornata è so giornata ma quindi vabbè se iniziai 10 già pronto così che ti sei svegliato ai 6 per far tutto ok dai 11 ai 7 di sera che cazzo ma che frog png comunque allora abbiamo detto sta in basso nel layout insomma sì 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 lui 3.000 più di anzi più di 3.000 ma prendiamo 3.000 dobbiamo fare una semplice cosa aritmetica e lo so che nessuno qui è ferrato però ce la possiamo fare non mi ricordo però a che conclusione volevo direi a Giuseppe Binetti sì perché stavo cercando stavo cercando l'audizione di Giuseppe Binetti X Factor hai capito hai capito chi è ovviamente non l'ho trovata non si trova più sul web da nessuna parte ho cercato dappertutto poi te la trovo come quello quello che sevantava quello che ha il capellone tipo che che diceva voi non sapete neanche chi sono i Dream Theater fantastico bellissimo una fantastica una fantastica verità in questa stupida vetrina chiamata ho capito cosa volevo concludere se lui per 3 per 3.000 ore e 8 ore di sole al giorno lui ha rimorchiato solo per 375 giorni no aspetta ha provato mica tutte sono rimorchiate quindi lui ha detto esperienza sul campo può essere pure che quella ti diceva 375 di sicuro non sono 5 anni poi chiaramente se magari impiega un'ora invece di 8 il discorso si moltiplica no ma soprattutto vabbè questa parliamo dell'esperienza poi bisogna pure vedere quante sono andate a buon fine che bisognerebbe vedere pure la media perché magari sì c'hai un botto di ore di esperienza ma te sono andate bene 5 in 5 anni dicono Simo conta che c'è stato il lockdown altrimenti scopava il doppio giusto uguale 204 anche mi sembra una risposta esatta Simo le ore di sole sono 12 vabbè sì ho capito hai 6 del mattino sta lì dai però mi sembra che sto 3000 sia un numero buttato non è quello il punto intanto è una stronzata a prescindere no no ma non che è una stronzata che è una cazzata nel senso di finto cioè che vuol dire un cazzo esperienze in altri 5 paesi oltre all'Italia immagino tipo Bosnia Bulgaria Ucraina sentite ti offro un panino al Mac paesi dove le ragazze sono estroversi ho prodotto i migliori risultati questo è sottolineato quindi attenzione nei corsi dal vivo nel campo della seduzione in Italia puoi vedere alcuni dei risultati degli studenti a fondo pagina ora li vediamo questi risultati imparato da alcuni dei più grandi esperti al mondo che vivono in America ma perché io trovo tutti questi trend condivisi ma perché tutti quanti in America in Inghilterra ma perché come approcci a questo sticato voglio vedere i risultati fammi vedere i risultati un po' cosa include il corso cioè comunque allora 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 questo è importante per mille quattrocenti mille ok ora ci arriviamo dodici ore di pratica sul campo con un istruttore altamente preparato cioè ma qua veramente cioè ma non è che c'è una laurea in seduzione no altamente preparato che vuol dire cioè secondo quali standard vabbè ha scopato due sessioni di teoria mirata e specifica in base alla tua situazione cioè pensa alla gente che perde tempo con ste cazzate due sessioni di correzione a fine giornata sessioni dedicate all'analisi di interazione di successo reali con ragazze filmate a telecamera nascosta ma che fai colazione pranzo e cena inclusi cioè te credo 1400 porco dio 1400 me devi portare il caviale me devi portare per nottamento incluso per due notti a pochi minuti dal duomo non è male però top però mi sa che pranzo e cena sono al mcdonald però vedi per nottamento incluso perché almeno c'è pure la stanza grazie zi top riassunto via audio di diverse ore con tutte le correzioni ricevute durante il corso avrai un microfono nascosto addosso durante il corso in modo da permettere all'istruttore di segnarsi tutti gli errori ma questa è una cosa illegale non lo so è illegale se non puoi registrare persone così di nascosto a me mi sta a far sentire male perché io mi sbrocco e mi viene una querela bonus videocorso dall'approccio al sesso dove imparerai tutto il necessario dall'approccio fino al sesso era intuitivo e arrivare preparato al corso dal vivo e avere maggiori risultati prezzo attuale 747 un numero proprio così arbitrario in più perché 47 non 46 così 747 però diventa gratis giusto non 50 perché ovviamente una legge di marketing ci impone che noi percepiamo il numero iniziale però sarebbe 749 1,99 capito qua ha fatto infatti 1390 è giusto doveva essere 99 però una piccola parte dei risultati di chi ha partecipato dei corsi del vivo voglio vedere le foto se possono aprire no mazzassino del merda allora c'è questo che era quello del video di prima ha baciato una ragazza wow 1400 euro per baciare una ragazza incredibile la foto a destra la faccio che faccio una foto a due sconosciuti che stanno a nambare ti giuro che vai sulla salaria con la pischella che mi fanno un favore ti giuro che vai sulla salaria con 1400 euro stai a posto per tre anni quello che chiedo io ma che tipo di relazione significativa puoi ottenere ma non gliene prega un cazzo mamma come hai conosciuto mamma no guarda ho pagato 1400 euro Grevaldi mi ha insegnato a rimorchiare ora siete qui ma sì ma allora secondo me in l'azione personale le persone che si approcciano a questi corsi sono essenzialmente degli incel dei goblinoidi degli insicuri che cercano di crearsi una sicurezza con dei rapporti occasionali o comunque dei goal mettiamola dei goblin mettiamola diciamo sul linguaggio suo quindi per loro la soddisfazione non è neanche la trombata in sé è il fatto di essere arrivati fino a là capito? qui vediamo anche che ha usufruito di questo corso Marco Crevaldi greve non mi aspettavo da Marco Crevaldi però un po' incel Marco Crevaldi sì un po' sì vabbè questo è sempre lo stesso con la stessa ragazza tra l'altro un buco ah no è un Twin Peaks tipo quando la faccia c'è sotto il buco nero c'è proprio una foto frontale di lei loro comunque sono in possesso della foto non censurata e comunque solo con coprire gli occhi io capirei comunque se la conoscessi ma certo ma poi scusa sali sopra qua hanno messo è sempre la stessa ragazza e lo stesso ragazzo qua sì quindi hanno messo quattro foto per far sembrare poi se vai a vedere sono quattro foto ma che risultati sono? vabbè sono quattro foto no dico sono quattro foto in croce che risultati sono? poi quella è la più bella ti fa fatte capire tra l'altro poi vai a sapere se sono veramente è quello studenti vai a sapere se queste ragazze non sono d'accordo posso viare le foto su internet posso fare foto a sconosciuti posso mettere che ne sono una coppia mobio te con Alex e dico a te fa una foto grande Davide guarda che è rimorchiato si può fare tutto approccio vabbè io Alex io Alex l'ho rimorchiata così scusate se ve lo dico però ho pagato ma vabbè è ovvio ho pagato sto corso hai pagato caro si si sesso dopo qualche mese di frequentazione sei proprio un simp Giorgio Cappello di Paglia mamma mia dopo otto mesi ma l'ha data per disperazione grazie Luca prima ragazza scopata da Day Game ma guarda col pollice su guarda guarda Andrea fai schifo che schifo che soggetto ah ma c'è pure il gruppo facebook non ti prego entra 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 iscriviamoci mamma subito 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 speriamo ci accettino ci accettino bisogna accedere e lei va alla cosa c'è la sinistra no io non ho la so a memoria non guardo ma tocca anche non far vedere delle tasterine io mi immagino qualche goblin che si mette là con il rallentatore tipo per vedere la rallentatore la tasterina ciao bomber qual è la password io le posso tutte agghiacciate hai fatto Simone se può? si si come eh? eh? posso? posso? eh rimetti non mi ricordo il nuovo gioco coaching nuovo gioco poi ma chi è Vali Vali? venga cercatele voi queste foto su google che se trovate voi significa che è fattuale gruppo segreto se poi è così ce lo dite ci abbiamo una sbucciardation greve che segreto no è un gruppo segreto non lo trovo non si può inserire vabbè e preventivi Lazio pronto inter ma che è? comunque io continuerei vai 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 oggi siamo a palla andiamo avanti aspetta sali 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 giusto per capire quanti appuntamenti ci hai messo per arrivare al bacio e quanti appuntamenti per andarci a letto bacio al primo da soli anche se è stato strano in quanto anche lei voleva e si è quasi sbrogliata da sola letto parecchi mesi anche perché lei non abita sola mamma mia che cringe giorgio cosa fai? ma spero poi siano maggiorenni questi mamma mia adesso è il primo appunto dai ma che è sto schifo? purtroppo a letto era buio non sono riuscito a fare una foto cioè questo significa che lui gliele chiede mi raccomando eh se scopate grazie al mio metodo fate una foto alla tizia che poi questa può essere la donna dei pulizie che sta a pulizia può essere la sorella anche fosse ma che schifo è grande chi è questa? quella di ieri che ti diceva approcciata in spiaggia con do you know italian? no why not vabbè mamma mia questa è una cosa schifosa che schifo perché dovresti partecipare a un corso per imparare a conoscere una ragazza del giorno? pensa alla maggior parte dei tuoi amici maschi tipo voi due fa una lista nella tua mente quanti di loro sono veramente capaci con le donne? no nessuno dei due quanti di loro stando con una ragazza che si sono scelte? nessuno dei due la verità è che la maggior parte l'hanno imposta sono andato all'agenzia dei collocamenti non hanno reali abilità vabbè ma noi si scopiamo grazie allo status non vale però oppure stanno una ragazza che gli è capitata prima non scopavo mai stanno accontentando per paura di non trovarne un'altra lo so che può essere un po' dura non si scrive così da digerire ma verificalo tu guardando i tuoi amici non credermi io personalmente prima di iniziare a uscire con tanti ragazzi in maniera costante o prima di iniziare a frequentare modelle modelle poi ma perché cosa c'è di più facoltoso nel frequentare modelle? io voglio frequentare segretari secondo standard di bellezza se una fa la modella già parte con un oggettivo valore fisico positivo diciamo vogliamo dire così a semplici cioè per una cosa proprio puerile ma beh sì ma qua il livello è questo eh cioè stiamo a parlare di oggettificazione assoluta cioè questa è avere oggettificazione a bombi alla passa che mi fai le foto mentre mi sto cambiare però Goll è conoscere una persona che ti completi tra virgolette ma è anche interessante oppure anche una legittima trombata ma di sicuro con sto con sto magone cioè pare tipo che si devono trombata per fare contento lui per non dimostrarsi degli inetti e gli occhi di questo tizio è tristissimo ripeto se si parla di trombata vabbè ovviamente pure andare in discoteca e fare potrebbe funzionare per alcuni io parlo di rapporti vabbè non è diciamo non è il gol di questo corso però i ragazzi che ne usufruiscono qualcuno vorrà anche ma oddio se si chiama se si chiama com'è che si chiama approcciala.it approcciala chiavala.it se poteva chiamare ho perso veramente la fiducia nel mondo quasi modello le ragazze che realmente sono passate attraverso un'infinità di tentativi quasi 2000 ragazze approcciate nel primo anno e mezzo si li ho contati uno per uno sai quante persone ho visto mollare dopo qualche mese perché non riuscivano ad ottenere risultati circa il 95% delle persone che entravano in contatto con questo mondo non è che stai andando in palestra stai andando in guerra mamma mia che tristezza il mondo così comunque mi vedo ancora in giro dopo anni che continuano a fare gli stessi errori perché non hanno mai voluto prendere in mano la situazione pensi di avere la resistenza e tenacia per fare la strada da solo se si accomuna se invece puoi evitare se non partecipiamo al corso è la scelta facile e avremo una vita difficile non partecipare al corso continuare a rimandare a fare quello che sempre fatto per poi ritrovarsi a 50 anni sul divano da solo oppure con una ragazza che ti è capitata per caso quindi se ti capita per caso è impossibile che ci stai bene capito cioè ti stai accontentando ma di cui in realtà non sei soddisfatto poiché hai deciso di accontentarti e ti chiederai cosa sarebbe potuto succedere se avessi preso serramenti in mano la tua vita sentimentale ormai è troppo tardi ti saresti chiesto ma magari avrei dovuto spendere quei 1400 euro la mia vita sarebbe stata migliore quanto sono stato stronzo no no quanto sono stato stronzo a non pagare compiliamo questo questionario vediamo un po' fammi vedere un po' il questionario compiliamolo allora vabbè voglio il questionario oh ecco 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 conoscevi già gli approcci di giorno per strada no perché non esiste l'hai inventato tu una stronzata no perché sono una persona civile conoscevi già il mondo dei layout con una rana in trasparenza ma che vuol dire hai già esperienza nel mondo degli approcci di giorno per strada ancora no perché sono una persona onesta e quanti anni hai educata ho 27 anni obiettivo hai torna fidanzata ad avere uno o più trombamiche senza più rivedere le ragazze che è vero altro vai ok ma faccio raporire la faccia tua tutto un goblinito scritto picco essere felice c'hai la morte in faccia perché vuoi raggiungere questo obiettivo che cazzo ne so perché non mi voglio suicidare vorrei evitare il suicidio quali pensi che saranno le tue difficoltà nell'approcciare le ragazze che sono usciute questa è una domanda importante sono degli ostacoli insormontabili quasi scrivi una tua descrizione per rendere più chiaro qual è il tuo punto di partenza e chi sei cosa fai nella vita che esperienze hai avuto fino ad oggi con le ragazze conduco il primo podcast in italia per risultati e guadagni conduco il primo podcast in italia per risultati no video podcast scusa dobbiamo essere specifici specifici podcast risultati e guadagni metti tra parentesi no metti tra parentesi dudubi trattino basso dudubi trattino basso esatto qualcuno potrebbe appellarmi Wendigo e avrebbe ragione la mia esperienza con le ragazze è stata è di profonda educazione e stima nei loro confronti esperienze infatti non ho mai avuto problemi a trovare una partner ora che ho 27 anni però inizio a chiedermi se è diventata l'assistituto della psicoterapia sì no comunque io voglio che mi aiuti vai 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 chiedermi se le mie coetane cerchino altro rispetto a un una rock star 2.0 2.9 dell'era digitale come me forse sì forse no cerchino a forse sì secondo me comunque sono molto belli secondo me cercano un tipo un un marketing strategist con la polo come si chiama la ralph loren eh la ralph loren ralph loren o la cost e lo scaldacollo la cost invece che un un abbigliamento un po' clochardico invece devo dire che un un totale improvvisatore demenziale estetico isterico istrionico come il sottoscritto ma non stai a parlare del look eh non stai a parlare del look vabbè che si veste non c'è la privacy policy vabbè come un clochard esatto mi faccio sapere il corso non useremo mai quindi abbiamo un telefono ma serviva soltanto per alcune operazioni verrai incontattato su whatsapp penso ti distra davvero un numero così denuncia subito ragazzi grazie di aver seguito questa live comunque però non c'è la documentazione per la privacy non c'è neanche la partita IVA sul suo sito ci ricorda qualcosa questa è una cosa grevissima allora ci vediamo questa sera popcorn in mano rigorosamente del Lidl bene in mano birra scadente possibilmente calda tutti pronti per il confronto alle ore 21 Luca Donadeo Federico lo buono e se volete un consiglio su come approcciare una ragazza io direi che il miglior metodo che ha sempre funzionato con il sottoscritto ehi tesoro ti va stasera un po' di cerbero io e te andate proprio sul sicuro secondo me c'è sta come approccio tipo se vedete morcerbero insieme a casa mia top approccio ciao non mi sento molto bene non mi taglierò le vene mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte sono a casa in cadene gli altri escono tutti insieme ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte cerberò pop 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 podcast cerberò pop 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 podcast marramighi liceidepe lei murla rana 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 cerberò pop pop podcast tutupi vuole estinguersi tre teste per un cerbero cerbero pop 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 podcast troppi goblin in questo mondo non sarò un cloche né tanto me non deve perché ogni giorno guardo cerberò cerberò pop 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 podcast cerberò pop 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 podcast marramighi liceidepe lei murla rana 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 cerberò pop pop podcast ora rana rana Grazie a tutti.